Volarebbe Giovanni, non c'è? No, hai dato la grolla piena, grazie. Quanto posto, Cardi. Buongiorno, Cardi. Alla sei e mezza, c'è sì. Vabbè, non lo so, non lo so, non lo so. Al terzo posto, Gianluca Tirocchiano. Al secondo posto, Giuseppe Lodiniero, Cardi. E il campione italiano della categoria C, Marco Massironi. Grazie.